di Morigno, a prima partita. Inoltre riguardo al mercato c'è qualcosa che vuole impendere tra un'asse Juve e Sassuola? No, assolutamente. Un'altra domanda adesso assolutamente vicino. Neanche Berardi? Grazie, grazie, è l'unico giocatore che ha fatto le richieste che c'è stato in queste stranze, ma per me non c'è l'altro. Direttore, ma a proposito delle parole di Molinio, ha avuto modo anche di confrontarsi con la dirigenza della Roma per discutere anche degli attacchi a Berardi? No, con la dirigenza abbiamo un buon rapporto, è chiaro che non sono parole positive quelle che il mister Molinio ha detto, per cui quello di importante è che abbiamo perso una partita che forse se non ci fosse stata l'espressione di Bologna, magari è possibile continuare in modo diverso, perciò per la sconfitta, che tra l'altro è nata in modo un po' casuale, ma di Molinio lasciamo un po' di lavoro.